Buongiorno, benvenuti. La presentazione di oggi si intitola Le date della vita. È un titolo piuttosto ambizioso perché quando si parla di date di quando si è formata la vita sulla Terra è un'impresa molto ardua e difficile. Ma c'è da dire che la ricerca, la scienza in questi ultimi decenni e soprattutto nell'ultimo decennio ha raggiunto dei risultati considerevoli, soprattutto sul come forse si è formata la vita sulla Terra. Ma prima di parlare di come forse quando si è formata la vita sul nostro pianeta, sarebbe interessante conoscere come e quando si è formato il nostro sistema solare. A tale proposito mi affido le parole di un noto fisico, Guido Tonelli, professore ordinario dell'Università di Pisa, ha partecipato ed è stato portavoce dell'esperimento presso il CERN che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Nel suo libro Genesi ci racconta come si è formato il sistema solare. Queste sono le sue parole. Sono passati circa 9 miliardi di anni dalla formazione dell'Universo quando alcune stelle giganti esplodono, disperdendo tutto il materiale accumulato nelle loro fornaci nucleari. E per fornaci nucleari si intende la fusione dell'idrogeno in eglio. Esplodendo, le stelle supernove hanno disseminato grandi spazi di polvere e gas, le nubi in molte mari. Queste contenevano soprattutto idrogeno ed eglio, ma ci sono tracce di tutti gli elementi, carbonio, azoto, ossigeno, silicio e così via fino al ferro. Perché Guido Tonelli parla di 9 miliardi di anni dopo la formazione dell'Universo? Le date dell'Universo sono stabilite in funzione dei parametri di allontanamento della sua espansione e sono dati provati, scientificamente provati. Vediamo in questa figura, molto semplice, come un palloncino fiato si allontana da un ipotetico centro. E se pensiamo che quelle macchioline azzurre blu disegnate sulla superficie del palloncino, siano galascie o siano stelle, vediamo come via via si gonfia il pallone e questi si allontanano sempre più dal centro. E se oggi l'Universo è in allontanamento, in un tempo remoto era una singolarità. Guido Tonelli parla di nube molecolare e questa è una nube molecolare, questa rappresentante in fotografia, è la nube di Orione, posta circa a soli, si fa per dire, 1344 anni luce da noi, deriva da un'esplosione di una stella gigante. Una nube molecolare è un tipo di nube con accumuli di gas e polveri tra le stelle. Ha una densità ed una temperatura che permettono la formazione di molecole gassose ed organiche, anche se la sua temperatura è di circa meno 260 gradi, ma non è uno zero assoluto, cioè non è meno 273 gradi. E pertanto a questa temperatura anche gli atomi di idrogeno possono formare delle molecole, così come si formano anche molecole organiche. Ed è proprio da una nube molecolare della nostra galassia che circa 5 miliardi di anni fa si forma un disco di gas, costituito prevalentemente da idrogeno nel dio, mentre le sostanze che si trovano allo stato solido formano dei grani di polvere. Probabilmente a seguito dell'esplosione di una stella vicina, il disco di gas inizia un movimento di rotazione. Al centro si accumula sempre più una grande quantità di gas, la contrazione gravitazionale lo riscalda e da una temperatura di circa meno 270 gradi arriva nel suo interno ad una temperatura di circa 10.000 gradi centigradi. È il punto critico, l'idrogeno si fonde in eglio e nasce una stella, il Sole. Dopo la formazione del Sole, il materiale in eccesso inizia ad apparsi in diverse zone, formando dei protopianeti rotanti attorno al centro della stella. La Terra era una massa di gas e polveri che iniziano ad agglomerarsi per effetto della gravità. Il conseguente raffreddamento permette la formazione di una crosta superficiale solida. Vediamo qui un breve riassunto di quanto abbiamo detto finora. L'esplosione di una stella gigante, si forma una nube molecolare, si forma la nebulosa solare e si formano poi i protopianeti. Qui vediamo due fotografie ricostruite al computer, fatte al computer, dove si vede la Terra, come era fatta, presumibilmente, circa 4,6 miliardi di anni fa e come era a 4,4 miliardi di anni fa. Cioè, quella di 4,6 miliardi di anni fa era una massa fusa, dove non c'era quasi superficie solida, altissime temperature, ma bastavano circa 200 milioni di anni perché si formasse una crosta terrestre. Questo è dimostrato dal ritrovamento di certi minerali. Il minerale più antico trovato sulla Terra, quando già aveva una crosta rocciosa, è uno zircone, una scheggia di zircone, qui la vediamo vista al microscopio elettronico, che è datato 4,36 miliardi di anni fa. È stato trovato sulla costa occidentale dell'Australia. Lo zircone è un minerale che ha delle impurità e le due impurità sono l'uranio e il piombo. È grazie a queste due impurità che si può datare l'età dello zircone. L'uranio si trasforma spontaneamente in piombo. Con un tempo di dimezzamento indica il tempo necessario perché la metà degli atomi di uranio si trasformi in piombo ed è di circa 4,5 miliardi di anni. Quindi, valutando con uno spettrometro di massa il numero di atomi di uranio e piombo nello zircone, si può quindi determinare la sua età. E come si determina l'età dello zircone, si possono determinare le età delle rocce. Ma abbiamo parlato di superficie terrestre, abbiamo parlato di come presumibilmente era fatta la Terra 4,2 miliardi di anni fa, ma l'atmosfera primordiale di che cosa era costituita. Secondo una teoria accreditata, la Terra, circa 4 miliardi di anni fa, subì un periodo di intenso bombardamento di meteoriti, perché non esisteva la protezione dell'ozono, non c'era un'atmosfera con ossigeno libero, ed una forte attività vulcanica, che portò all'emissione di gas, dando origine ad un'atmosfera costituita da vaporacqueo, anidride carbonica, metano, solfuri, ammoniaca e idrogeno. La teoria diventa una prova scientifica grazie alle ricerche del 2005, quando, degasando delle meteoriti originarie del Sistema Solare, gli scienziati hanno dimostrato l'esistenza dell'atmosfera primordiale e riducente. Cioè, nell'atmosfera riducente primordiale c'era vaporacqueo, anidride carbonica, metano, acido solfidrico, ammoniaca, idrogeno. Pertanto abbiamo un'atmosfera riducente e abbiamo già una crosta terrestre, e si parla di circa 4 miliardi di anni fa. Acqua. Come si formò l'acqua sulla Terra? Questo fu un problema per diversi anni, ma le teorie più accreditate sono due. Quella che si è formata per mezzo del vaporacqueo, uscito certamente dalle eruzioni vulcaniche, poi raffreddandosi è caduto sotto forma di pioggia, o anche attraverso le meteoriti. Sono state fatte delle indagini accurate sulle meteoriti, di miliardi di anni fa, analizzate, esistenti, cose certe, che erano e sono, trattengono acqua. L'acqua naturalmente non in stato liquido, ma agglomerata da altri composti chimici che quando le meteoriti caddero sulla superficie terrestre, riuscirono anche durante l'evaporazione dell'impatto, portarono acqua sulla nostra superficie. Diciamo che questa, la vita del brodo primordiale, cioè è la prima ipotesi, il primo modello di come si è formata la vita sulla Terra, probabilmente, e si riconduce all'atmosfera riducente dell'epoca, di quattro miliardi di anni fa. E adesso vediamo subito cosa si intende per il brodo primordiale. Un famoso ricercatore biochimico, Harold Duray, statunitense, indagava sulle possibilità di come la vita si fosse formata sulla Terra. È un suo allievo, qui lo vediamo piuttosto invecchiato, ma è una foto abbastanza recente, un certo Stanley Miller, che appena poco più che ventenne, nella sua tesi di laurea, di dottorato, fece un esperimento molto interessante. E cercò, infatti, il 15 maggio del 1953, sulle pagine di Sainz, viene posta una pietra miliare della scienza moderna. Si tratta dell'esperimento di Harold Duray e Stanley Miller, suo allievo, che ha ricostruito un laboratorio il cosiddetto brodo primordiale. Cosa fece Miller? E cercò di riprodurre, praticamente, l'atmosfera primitiva. In questa serie di ampolle, qui c'è acqua, è un esperimento che fanno tuttora e porta sempre dei risultati straordinari per quanto riguarda la formazione di sostanze organiche. L'acqua viene riscaldata, sale, passa attraverso questi tubi, entra in quest'altra ampolla, dove Miller riprodusse le sostanze gassose che c'erano 4 miliardi di anni fa. Vaporacqueo, metano, ammoniaca, idrogeno, ossido di carbonio ed altre. Poi sottopose questi gas a delle microscariche elettriche, riproducendo un po' i fulmini che, senza dubbio, già c'erano agli inizi, alle origini della storia della Terra. Dopo una settimana, o anche più, incominciarono a cadere degli elementi che vennero raffreddati da questo scambiatore di calore, raccolti e trasformati in goccioline che vengono raccolti in questa beuta e, sorprendentemente, attraverso delle indagini di cromatografia su carta, adesso si fanno delle indagini più accurati, vengono trovati degli amminoacidi che sono alla base delle proteine e tante altre sostanze organiche. Cioè, questo fu importante per capire come da un'atmosfera gassosa, senza ossigeno, perlomeno l'ossigeno era unito all'idrogeno per formare l'acqua e il carbonio, ma non era un ossigeno libero, si possono trasformare delle sostanze liquide e organiche. E per organico si intende tutte quelle sostanze chimiche che contengono carbonio, che fanno oggi parte delle nostre cellule. Qui è raffigurato, così schematicamente, il brodo primordiale. Vediamo queste raccolte d'acqua, vediamo in atmosfera il vaporacquio, la CO2, il CH4, l'ammoniaca e, sottoponendo questi gas e i fulmini, per effetto delle piogge, si raccogliono nell'acqua tutte queste sostanze che poi sono state trasformate successivamente e anche spontaneamente. Infatti, utilizzando le sostanze organiche che probabilmente si formarono nel brodo primordiale, è stata costruita in laboratorio una protocellula. Infatti, vediamo questa protocellula, è molto simile a una cellula vivente, però è stata fatta in laboratorio. Vediamo una membrana esterna, una membrana interna formata da fosfolipidi che lascia passare delle sostanze dall'esterno e diciamo che nel 2013, infatti, un gruppo di ricercatori statunitensi guidati da Jack Sostak, premio Nobel per la medicina nel 2009, sono riusciti a incapsulare dei campioni di RNA, che l'RNA è praticamente il costruttore delle proteine nelle nostre cellule, nell'interno di vesicoli oleose formati da acidi grassi e dicono che per la prima volta siamo riusciti a riprodurre RNA che si copia all'interno delle vesicoli. Cioè, questo RNA si divide spontaneamente. Non sono ancora giunti a una divisione cellulare completa, ma piano piano ci stanno arrivando, anche se sono comunque tutte ipotesi per il momento. Un altro modello molto studiato, quello che la vita sia arrivata dallo spazio. Qui vediamo le meteore che cadono in parte nell'acqua e cadono in parte sulla superficie terrestre. Questa ricerca è stata condotta da due italiani, da Ernesto Di Mauro, che vediamo qui a sinistra, e Raffaele Saladino. Ernesto Di Mauro è professore di biologia molecolare all'Università della Sapienza di Roma, e Raffaele Saladino, professore di chimica bioorganica all'Università della Tuscia di Viterbo. Entrambi raccontano che è stata scoperta una delle possibili cause dell'origine della vita sulla Terra. Infatti, con la spetroscopia astronomica, è stata identificata nella nostra galassia la presenza di moltissime sostanze organiche presenti oggi nelle cellule viventi. Cioè, sostanze organiche che sono presenti nello spazio. Sono presenti attaccate alle polveri, polveri microscopiche, o sotto forma di gas. E infatti, se si punta, Raffaele Saladino dice, se puntiamo un radiotelescopio, qui raffigurato, qui a sinistra, verso una qualunque parte dello spazio, vediamo tantissime sostanze organiche. Infatti, ogni segnale corrisponde alla presenza di molecole organiche. Questi picchi, che noi vediamo qui, lavorati praticamente al computer, attraverso la spetroscopia, rappresentano, segnalano la presenza di sostanze organiche anche nella nostra galassia. Infatti, in foto, sono rappresentate le righe spettrali, ossia le frequenze delle radiazioni elettromagnetiche provenienti dallo spazio. Vediamo del metanolo, dell'acido cianitrico, del biossido di zolfo, della formaldeide, dell'acqua, del metanolo, tutte sostanze che poi, mescolate, possono dar vita alle sostanze organiche presenti nelle nostre cellule. Un'altra immagine molto significativa è questa di una nebulosa vicina a noi, si fa per dire, mille anni luce, ma calcolando le distanze astronomiche vicina, dove si trova della forma mide. Ecco, qui vediamo la nostra galassia vista dall'alto, sezionata. queste palline nere sono delle parti piene di forma mide, che è una sostanza importantissima in chimica e liquida, dalla quale vengono prodotti zuccheri, carboidrati, aminoacidi, acidi nucleici, essenziali per le cellule. Noi ci troviamo all'incirca dove c'è questa crocetta rossa e questi pallini neri che hanno un diametro di migliaia di chilometri di anni luce praticamente sono pieni, strapieni di questa forma mide, CH3NO. Questa forma mide è un'ipotesi molto studiata e molto concreta, sicuramente è stata veicolata, come altre sostanze organiche, da che cosa? Dalle meteoriti, che cadendo nell'acqua hanno portato praticamente tutto, praticamente hanno costituito questa specie di brodo primordiale nel quale poi si sarebbero forse sviluppate le prime cellule. Infatti il professor Di Mauro dice se prendiamo delle meteoriti e ne facciamo la polvere, poi si riscalda in acqua con la forma mide, si formano centinaia di sostanze organiche. Innanzitutto si sintetizzano anche delle basi nucleiche e dei loro intermedi in presenza di argilla che funge da catalizzatore. Questa è una meteorite, questa è una fotografia di una sezione della meteorite fatta al microscopio elettronico dove si vedono le macchie di carbonio, che è praticamente l'inizio della vita. Un'altra ipotesi della terza, sono tre le più accreditate, più studiate, e che la vita sia nata dalle sorgenti idrotermali dei cammini vulcanici sottomarini. I cammini si formano in prossimità di sorgenti idrotermali sui fondali di corpi d'acqua, sono costituiti da minerali vari, generalmente porosi, e variano in dimensioni da un paio di centimetri d'altezza a decine di metri. In laboratorio sono riusciti i ricercatori a ricostruire l'ambiente di questi cammini idrotermali. E le sorgenti idrotermali in fondo al mare emettono sostanze inorganiche come anidride carbonica, metano, vari sulfuri, idrogeno, cianuro, ferro e vari sali minerali, un po' come quelli presenti nell'atmosfera primordiale, solo che qui siamo sotto al mare, che vanno praticamente tutti questi sali e queste sostanze gassose vanno in soluzioni con l'acqua. Gli scienziati hanno ricreato le condizioni chimiche e fisiche del fondo degli oceani nelle vicinanze di questi cammini dove si sarebbero formate per effetto della differenza di potenziale, piccole scariche elettriche, diversità di temperatura, la diversità di temperatura nell'interno del cammino all'esterno è di 400 gradi, perché nell'interno le temperature salgono fino a 350-400 gradi e fuori, al di là del cammino nell'acqua oceanica, le temperature sono 2-4 gradi, pertanto differenze di potenziale, differenze di temperatura e di pH hanno formato delle sostanze organiche e qui, in questa boccia che noi vediamo raffigurata, si vedono proprio queste sostanze organiche e minerali che stanno crescendo. Tra l'altro, una prova decisiva di questo è praticamente si è avuta quando nel Quebec sono state scoperte dei microfossili di batteri a forma di sottilissimi filamenti incastonati in rocce di quarzo risalenti a circa 4,3 miliardi di anni fa. Probabilmente queste rocce emerse facevano parte di un sistema idrotermale di acque profonde ricche di ferro. Vediamo le fotografie di questi microtuboli da 400-500 ingrandimenti, vediamo questi filamenti, qui li vediamo a 1000 ingrandimenti, e queste tracce sono state analizzate attraverso la spetroscopia ed altre indagini particolari, hanno trovato delle sostanze organiche riconducibili a dei batteri, insomma, delle prime protocellule. Vediamo queste rocce emerse in Quebec, dove sono presenti anche sostanze ferrose, qui la vediamo nella cartina. Finora abbiamo parlato di queste tre ipotesi, la vita che si è formata nel brodo primordiale attraverso le piogge che portavano le sostanze dell'atmosfera riducente. Abbiamo visto come la vita probabilmente, forse, può anche essere arrivata dallo spazio attraverso le meteoriti che hanno trasportato sostanze organiche, abbiamo visto anche come certe sostanze organiche che si formano nel fondo degli oceani. Però incominciamo a parlare di cose più certe, nel senso che, potremmo dire, quando i batteri si colorano di verde per la presenza di pigmenti come la ficocianina e la clorofilla. Cioè, circa 4,3 miliardi di anni fa i batteri, chiaramente, che si sono formati hanno incominciato a subire dell'evoluzione e con il tempo, qui si parla di centinaia di milioni di anni, forse un miliardo, si sono formate le cianofiti, i cianobatteri, dei batteri che hanno saputo per primi sfruttare la luce solare. Qui vediamo dei batteri in colori, qui li vediamo colorati, queste sono cianofite, cioè, piccole sono fotografie fatte al microscopio elettronico e vediamo come la clorofilla e la ficocianina abbiano reso verdi questi esseri viventi. Diciamo, possiamo dire, che i primi esseri viventi, qui cominciamo ad andare verso delle certezze. Prima erano ipotesi, ipotesi concrete e anche forse verità, ma queste sono certezze. I primi esseri viventi vegetali comparsi sul nostro pianeta hanno formato delle rocce sedimentarie, chiamate stromatoliti, dal greco stroma, tappeto, coperta, elitospietra. Queste rocce hanno un'età di 3,5 miliardi di anni fa e questa è una datazione certa. si sono formate dal continuo accumulo di sedimenti fini prodotti trattenuti dai filamenti delle stesse cianofite, alghe microscopiche ancestrali che per prima hanno utilizzato la luce solare per creare energia, perché vengono detti anche cianobatteri. In realtà, nella tassonomia vegetale si chiamano cianofite, ma vengono detti cianobatteri perché hanno delle strutture talmente elementari nel loro interno, nel loro nucleo, che sono simili ai batteri. Queste rocce sono state trovate in varie parti del mondo, ma soprattutto nella E-Milling Pool, nella Shard Bay, nella Baia dei Pessicani, in Australia, sulla costa occidentale. Vediamo questo camminamento che passa sulle rocce stromatolitiche. Eccole qui raffigurate, sono delle specie di funghi, coni rovesciati, altezza un metro e mezzo, due, anche di più, e si pensa che queste rocce aumentino di un metro ogni miliardo di anni. La certezza che le stromatoliti siano strutture correlate a forme di vita di 3,5 miliardi di anni fa deriva dal fatto che i ricercatori sono riusciti a mettere in luce tracce di materia organica grazie a un lavoro complesso e particolare. Pertanto abbiamo una certezza della presenza di questi esseri viventi, vegetali, che per primi hanno sfruttato la luce solare per formare energia e che per primi hanno emesso ossigeno nell'atmosfera. Vediamo una foto delle stromatolite della Sher Bay, qui vediamo una sezione sempre più ingrandita, qui ne vediamo un pezzo ancora dove si vedono questi microtuboli e grazie a delle indagini particolari, appunto, ripeto, hanno avuto dei riscontri praticamente di validità, di certezza. Vediamo, questo è molto interessante a parer mio, vediamo un fossile di una cianofita, di una stromatolite, e sì, anche di una cianofita. Vediamo questo andamento così sinusoidale, ondulatorio, e questo è un fossile ingrandito, una sezione di una roccia ingrandita più di mille volte, e qui è stata praticamente graficamente riprodotta al computer e vediamo questo essere vivente, perché poi è un essere vivente formata da tante cellule una attaccata all'altra. E vediamo nel confronto con una cianofita attuale, questa è una cianofita che ho fotografato, che esistono nel fitoplancton dell'acqua, l'ho fotografata io al microscopio ottico, e vediamo la similitudine di questo disegno e di questo fossile. Sono praticamente delle microalghe dove le cellule sono attaccate le une alle altre, non sono pluricellulari, perché se si divide una cellula se si isola è in grado di riprodurre il filamento da sola, pertanto sono unicellulari, però rimangono attaccate per via di una sostanza mucilaginosa e questa è una cianofita attuale ingrandita 900 volte, mentre questo è un disegno che rappresenta praticamente il fossile di 3,5 miliardi di anni fa. Come si sono formate le stromatoliti? Le stromatoliti sono formate grazie alla fotosintesi che svolgevano questi esseri viventi vegetali primitivi. Diciamo che la fotosintesi può essere riassunta in questa formula, 6 molecole di anidride carbonica più 6 molecole di acqua più luce, abbiamo una molecola di glucosio e 6 molecole di ossigeno. Però, come si vede, gli esseri viventi vegetali hanno bisogno di assorbire l'anidride carbonica per svolgere l'azione fotosintetica e considerando che vivevano sotto l'acqua perché non era possibile vivere sulla superficie dell'acqua in quanto i raggi ultravioletti non essendoci una barriera di ozono li avrebbero distrutti subito per cui si formarono mezzo metro sotto l'acqua e assorbivano l'anidride carbonica dal bicarbonato di calcio sciolto nell'acqua e questa è una formula chimica che dice che da un bicarbonato di calcio se si assorbe della CO2 gassosa come facevano le cianofite si libera acqua e si forma carbonato di calcio si forma un qualcosa di solido fangoso e qui le vediamo rappresentate come questi filamenti tendono a salire verso l'alto perché tendono a muoversi verso la luce imbrigliano tutto questo fango che da loro stesse è stato formato fino a formare queste che sono dette appunto stromatoliti queste rocce che oggi vivono in Australia ma ce ne sono anche in altre parti del mondo qui andiamo verso la catastrofe dell'ossigeno perché un cambiamento enorme avvenne poi qualche centinaio di milioni dopo di anni dopo infatti un cambiamento avvenne circa 3 miliardi di anni fa quando nei mari cominciarono ad apparire piccole zone contenenti ossigeno libero perché con la fotosintesi questi esseri viventi emettevano ossigeno l'ossigeno non esisteva e vivevano i batteri che probabilmente vissero prima delle cianofite non vivevano erano anaerobici vivevano senza ossigeno e diciamo che poi circa 2,4 miliardi di anni fa l'ossigeno nell'atmosfera improvvisamente aumentò di circa 10.000 volte in soli 200 milioni di anni qui ne vediamo una prova questa è una roccia trovata in Nord America che risale a 2,1 miliardi di anni fa che contiene queste bande ferrifere che è ferro ossidato cioè l'ossigeno ha ossidato il ferro di questa roccia di 2,1 miliardi di anni fa quando c'è stata la grande catastrofe e la prova della grande ossidazione ecco le cianofite che oggi però vediamo sono delle cellule procariote cioè nel senso che non hanno un nucleo ben diviso sono simili ai batteri e oggi comunemente esistono ancora sono delle lontane parenti di queste cianofite ancestrali fanno parte del fitoplanto diciamo che in questa rappresentazione grafica che ho disegnato si può vedere la sezione di una di queste cellule vediamo la guaina esterna di natura pectinica vediamo dei pigmenti chiamati ficocianina che servono a favoriscono la fotosintesi clorofiliana vediamo dei ribosomi che sono deputati alla costruzione delle proteine e il DNA il codice genetico con l'RNA è sparso nel nucleo non è diviso da una membrana cellulare come nelle cellule superiore pertanto vengono cellule procariote prima del nucleo ben separato poi abbiamo dei granuli delle lamelle fotosintetiche che non sono dei veri propri cloroplasti ma sono delle lamelle che permettono lo svolgimento della fotosintesi vediamo alcune di queste cianofite divisione delle cianofite vediamo l'ordine del nostro cali vediamo questa specie anabaena constricta si vede qui in una fotografia vivono comunemente nel fitoplanto tendono a formare questi massi mucillaginosi un verde azzurro talvolta anche tendenti al nerastro e poi osservandoli attraverso il microscopio il mio microscopio ottico ho fatto delle fotografie sostituendo questa testa binoculare con un cannotto in alluminio nodizzato vito sopra o poggio sopra la macchina fotografica e fotografo questi esseri viventi tecola la che forma le mucillagini che abbiamo visto prima e si chiama anabaena constricta che fa questa immagine in grandizia di 900 volte le cellule costricta perché si vede nel mezzo che ha una specie di costrizione cioè di portatura perché le cellule si dispongono in questo modo ha cellule lunghe da 6 a 10 micro e larghe da 5 a 7 micro forma delle fioriture fioriture algali cioè praticamente quando si trovano tanti sali minerali tanti nitrati quest'alga tende a ricoprire le piccole raccolte d'acqua soprattutto stagnanti e formandone una specie di tappeto vediamo maggiori ingrandimenti vediamo come ci sia una cellula diversa da tutte le altre e questa si chiama eterocisti è praticamente una cellula che è in grado di fissare l'azoto dall'atmosfera e questo dimostra proprio l'anestralità di questi esseri viventi vediamo un altro genere che appartiene sempre alla divisione delle cianofite e all'ordine delle nostre cali il genere si chiama spirulina perché ha questo andamento così di onda a forma di spirale questa è stata ingrandita mille volte nella fotografia è un'alga presente già circa 3 miliardi di anni fa quest'alga le spirulene costituiscono due importanti fonti di proteine acidi grassi essenziali minerali magnesio ferro cromo e vitamine B2 e B12 è ricca di ferro e di caroteni infatti viene coltivata in varie parti del mondo anche in Italia in questi fitoreattori dove viene immessa CO2 e aria sottoposte delle radiazioni elettromagnetiche giuste per la fotosintesi di questi microrganismi viene coltivata perché serve come alimento serve anche come viene trasformata liofilizzata e molto se ne fa molto uso di queste pasticche di spirulina proprio per le loro ricchezza di ferro antiossidanti e anche di proteine vediamo ancora una specie questa si chiama Oscillatoria tenuis e Oscillatoria limosa questo nome deriva dal fatto vedremo adesso perché si chiama Oscillatoria e comunque vediamo prima questa immagine è l'immagine di uno stagno dove soprattutto nel periodo primaverile appena finisce l'inverno questi esseri viventi salgono dal fondo salgono dopo il periodo invernale formano questi grumi cerebroidi che sono mollici al tatto e soprattutto quando ci sono molti nitrati nell'acqua eccoli vediamo le oscillatorie vengono cosiddette perché presentano dei movimenti oscillanti osservandole da vicino a circa 900 ingrandimenti vediamo che ogni singolo filamento ha un moto rotatorio destroso e poi dopo un attimo di pausa un moto rotatorio sinistroso questa serie di movimenti consente un avanzamento oscillante un po' a destra e un po' a sinistra vediamo un'altra immagine sempre di un oscillatorio a tenuis hanno delle cellule molto piccole un diametro di circa 8-10 micron ed una lunghezza di 2,5 micron e qui vediamo un altro oscillatorio si chiama oscillatorio a limosa è un po' più grande della tenuis e vediamo come questi setti dividono le cellule una dall'altra che rimangono attaccate anche se possono vivere singolarmente ma rimangono attaccate per via di una parte mucillaginosa che avvolge tutta questa serie di cellule qui vediamo vediamo come si muovono questi esseri viventi questa è un'oscillatoria tenuis avanza in senso rotatorio verso destra e poi dopo un po' di pausa avanza in senso rotatorio a sinistra e anche pur essendo degli esseri venti ancestrali lontani parenti di quelle cianofite che hanno formato le stromatolite hanno un movimento hanno un movimento lento ma esiste questo è un filmatino che ho fatto io a circa 600 ingrandimenti per finire abbiamo ancora un'altra microalga che si chiama fa sempre parte delle oscillatorie divisione cianofite ordine nostocali genero oscillatoria specie oscillatoria formosa perché è un po' più grossa delle altre vediamo qui a 900 ingrandimenti vediamo la specie di capocchia rotondata che la distingue sempre questi setti che dividono le cellule una dall'altra è una fotografia fatta al microscopio ottico a 900 ingrandimenti vediamo qui ancora nel dettaglio vediamo questa capocchia rotondata avanza sempre con dei oscillanti e questa fotografia è fatta a 1000 ingrandimenti qui vediamo l'oscillatoria formosa come si muove facciamo attenzione la vediamo un filmato che ho fatto io si muove ruotando verso destra e poi dopo un attimo di pausa verso sinistra e avanzano avanzano questo moto oscillante permette loro un avanzamento destroso e sinistroso e questi ripeto sono i vegetali che sono i lontani parenti di quelle cianofite che sono comparse 3,5 miliardi di anni fa hanno varie forme però che sono comparse 3,5 miliardi di anni fa sul nostro pianeta diciamo in conclusione che le vie poi evolutive sono state principalmente due o perlomeno si presume sono sempre ipotesi e modelli da studiare che poi vengono quasi sempre riveduti o a volte vengono certificati come certo come prova provata e una di queste ipotesi è che questi cianobatteri queste cianofite siano entrate a far parte dei corpi mucilaginosi di strutture organiche e poi si siano differenziati in cloroplasti quelli che oggi svolgono l'azione fotosintetica nelle piante con l'entrata dell'assorbimento della CO2 e l'uscita dell'ossigeno mentre i primi batteri non so se vi ricordate quando abbiamo parlato dei batteri che probabilmente si sono formati 4,3 miliardi di anni fa hanno seguito una via evolutiva differente trasformandosi entrando in questi corpi mucilaginosi ricoprendosi magari di queste sostanze organiche si sono trasformati in mitocondri cioè sono praticamente quegli organelli che nelle nostre cellule nelle cellule animali al contrario delle cellule vegetali assorbono ossigeno ed emettono CO2 nella fotosintesi si assorbe CO2 si emette ossigeno e si formarono le piante negli animali si assorbe l'ossigeno si emette CO2 e si formarono ci si formarono le piante e qui si formarono gli animali conclusione come diceva Carl Sagan un grande astronomo astrofisico noi siamo fatti di stelle certamente tante sono ipotesi sono modelli da studiare ma siamo sulla via giusta per arrivare a delle conclusioni abbastanza veritieri ecco vi ringrazio questo viaggio che abbiamo fatto un po' indietro nel tempo ecco un'esclamazione quanto siamo vecchi eh sì quello sì purtroppo siamo vecchi anche immortali perché parte di questo DNA è arrivato anche a noi in qualche modo forse forse se noi discendiamo da lì è possibile scusate è possibile immaginare che l'universo sia pieno di esseri viventi bravo è una formazione veramente sì esatta perché come si è formato sulla terra essendo lo spazio formato da ci sono tantissime sostanze organiche mescolate a delle polveri le polveri sono misurano un micro sono sottilissime ma ci sono queste sostanze organiche è facile è probabile che da qualche altra parte si sia formata qualche forma di vita sono tutte ipotesi è chiaro non c'è niente di certo però sono modelli abbastanza studiati e concreti comunque interessantissimo voglio chiedere è possibile avere qualcuno degli schemi che lei ha proiettato sì 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 ma intanto Paolo Paolo li ha registrati perché tanti le fotografie che ho fatto le ho fatte io al microscopio ottico però alcuni schemi li ho presi dal web qualcuno l'ho costruito io l'ho disegnato io ma qualcuno l'ho preso dal web sono molto chiari eccetera mi sono praticamente appoggiato a delle ricerche fatte a degli astrofisici a delle persone non è più